Gli uomini notano subito le belle ragazze per strada e fanno commenti spinti. Ebbene, questa è la mia verità personale. In questo video vi dico che dal mio punto di vista la stragrande, non tutti, ma la stragrande maggioranza dei uomini magari si trovano fuori da un negozio a fumarsi una sigaretta quando passa una bella ragazza, ma anche una bella donna, un po' sexy, ma anche molto intrigante ecco che fanno commenti piuttosto presi, piuttosto, diciamo così, spinti. Commenti che possono essere, per esempio, oh guarda quella quant'è bella, che possono essere, per esempio, ah vedi quella quant'è figa, oppure per esempio ancora, oh mazza, guarda quella, quella mi sa che ne ha presi gli schizzi. Cioè, parliamo di commenti anche abbastanza spinti, amicamenti, guardati da parte, o meglio sguardi da parte di uomini piuttosto sentiti, piuttosto visibili, piuttosto paesi e donne che ovviamente rimangono, come si suol dire, un po' stupite, un po' allibite nel momento in cui ascoltano, o meglio discono, i commenti di determinati uomini, di determinati ragazzi, di determinati fanciuli. Vi ringrazio per l'ascolto, questo è il mio parere, non dico che tutti gli uomini notano subito le belle donne, ma dal mio punto di vista la stragrande maggioranza degli uomini notano subito le belle donne per la strada e fanno commenti spinti, commenti che fanno ovviamente all'altro amico che è vicino a lui, oppure all'altro amico che può essere anche un ragazzo vicino a lui sempre. Beh, questa è la mia verità, un saluto, iscrivetevi, a presto.